Federico, un weekend non semplice ma con un ottimo risultato finale, un podio, il tuo bilancio? Esattamente, abbiamo trovato un giusto compromesso col telaio, un buon motore, molto buono e niente, grazie al team, grazie ai meccanici e a tutti quanti A Michele anche, anche a Michele Anche a Michele Allora, la prossima volta, noi ci siamo giocati l'italiano stavolta come lingua La prossima volta abbiamo siciliano-inglese, a tua scelta per l'intervista Dai, facciamo inglese Oh, colpo di scena, quindi di nuovo a podio la prossima volta Dai, ci speriamo Complimenti Grazie mille